Quasi 809.000 euro. A tanto montano i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, ai regolamenti, alle ordinanze e alle altre norme di legge, elevate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 dalla polizia locale e dagli ausiliari del traffico di Sondrio. Le voci più significative riguardano le multe effettuate dagli agenti della polizia locale, quasi 407.000 euro, praticamente 34.000 euro al mese, e i 317.000 euro spiccioli cui invece ammontano i proventi delle sanzioni degli ausiliari del traffico, in questo caso quasi 26.500 euro per ognuno dei 12 mesi dello scorso anno. In altre parole, ogni mese le entrate sfiorano i 60.000 euro. Per un capoluogo che comunque non arriva a 22.000 abitanti non è certamente poco. E mentre il comandante dei vigili, Mauro Bradanini, prima di commentare, annuncia di essere alle prese con un'analisi dettagliata dei dati relativi ai proventi che tenga conto delle violazioni, ma anche della tempestività con cui sono pagate le sanzioni, poiché se il trasgressore salda entro 5 giorni dalla contestazione o dalla ricezione della notifica, ha uno sconto, chiamiamolo così, del 30%, balza all'occhio un aumento di più di 100.000 euro delle multe combinate dagli ausiliari del traffico, dai 193.000 euro del 2022 agli oltre 317.000 del 2023. È vero che alla società che ha i parcheggi in concessione va la metà dei proventi delle sanzioni elevate per chi lascia l'auto senza pagare o con il tagliando scaduto negli spazi blu. Ma è anche vero che dal settembre del 2022 gli ausiliari del traffico hanno la possibilità di multare a Sondrio chi parcheggia senza averne titolo, negli spazi riservati ad automobilisti con disabilità, nei parcheggi rosa per chi porta o ritira da scuola i bambini, e nei posti riservati al carico e scarico e ai veicoli elettrici. Insomma, che si tratti di un aumento di scorrettezze da parte degli automobilisti, visto che il mancato rispetto delle regole legate al posteggio rappresenta la percentuale più massiccia nel bilancio delle attività della polizia locale, oppure di aumentato zelo da parte di vigili e vicevigili, resta il fatto che per le casse di Palazzo Pretorio si tratta di un bottino davvero ragguardevole.